Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua ben ritrovati in questo nuovo video oggi siamo qua per vedere leolandia il natale incantato 2019 quindi adesso entriamo al parco e scopriamo insieme questo natale incantato 3 2 1 sigla e iniziamo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti perché è davvero bella ragazzi aria qua nella fattoria con i ciuchini qua all'Olandia c'è anche l'aria fattoria bella e carina vi salutano anche voi anche loro grazie a tutti ragazzi studiamo già i vari progetti novità 2020 già che siamo qua in Olandia progettiamo anche quelli di tutti i vari parchi grazie a tutti grazie a tutti ragazzi adesso andiamo alla scoperta del rettilaio e dell'acquario perché anche qua all'olandia oltre alle attrazioni potete vedere l'acquario e il rettilaio grazie a tutti 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 grazie a tutti